Soltanto qualche attimo, qualche minuto di paura, di timore che potesse essere successo qualcosa di grave qui in corso Padovano a Pagani proprio nel ufficio postale dove purtroppo qualche anno fa perse la vita il tenente dei carabinieri Marco Pittoni. In quel caso si era trattato di una rapina, di un tentativo di rapina, in questo caso invece si è trattato di un falso allarme. Erroneamente è scattato l'allarme che ha messo in allerto ovviamente i carabinieri che sono arrivati qui sfrecciando nel centro cittadino, sono entrati dentro anche armati di mitra ma all'interno era tutto tranquillo come ci hanno riferito alcuni dipendenti dell'ufficio postale. Non è accaduto niente, è scattato solo l'allarme in modo erroneo. Sentiamo cosa ci hanno detto qualche cittadino che era proprio qua davanti. L'ho vista che stavo fuori, l'ho vista che stavano spuntando con la macchina davanti alla posta, si sono fermati, è uscito con un mitra in mano, è entrato nella posta. Poi più di questo non so diciamo... Era un falso allarme poi si è stato avuto? Penso di sì perché io non ho notato niente di particolare qua fuori, quindi doveva essere per forza un falso allarme. La gente esce tranquillamente, esce dentro? Sì, è stata una cosa tranquillissima perché io da un'ora non ho visto proprio niente di particolare davanti alla posta, non è successo proprio niente, solo è stato un falso allarme. Soltanto una grande paura no? Sì, quasi, però io a un certo punto ho sentito delle grandi sirene ma non sapendo, uscendo dal dottore mi sono trovato con 5 o 6 macchine dei carabinieri. Era un falso allarme? Era un falso allarme sì.